Tremarella. I poeti e gli scrittori, così infatti si dice. Ma se non scrittori, i poeti chi sono? I poeti, la poesia, gli scrittori, la prosa. Nella prosa può esserci tutto, anche poesia, ma nella poesia deve esserci solo poesia. In sintonia col manifesto, che l'annuncia con lo svolazzo liberty d'una P maiuscola, iscritta nelle corde d'una lira alata, dovrei, più che entrare, arrivare volando. E non sarebbe meglio scalza che con queste scarpe da quattro soldi, pesanti, scricchiolanti, goffa a sostituzione d'un angelo. Avesse almeno un vestito più lungo, più lieve, e versi che escono così, dalla manica, da festa, da parata, da grande occasione. Un don, 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 abba, ba. Ma là sul palco, giaguata un tavolino da seduta spiritica, coi piedini dorati, su cui fuma un piccolo candeliere. Ne deduco che dovrò leggere al lume di candela ciò che ho scritto a macchina, tac, 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 alla luce di una lampadina. Senza preoccuparmi in anticipo, se sia poesia e quale poesia? Se del genere in cui la prosa è mal vista, o del genere che è ben visto in prose? E qual è la differenza, percepibile ormai solo nella penombra, sullo sfondo d'un sipario bordeaux, con frange viola. Eccesso. Hanno scoperto una nuova stella, ma non vuol dire che vi sia più luce, è qualche cosa che prima mancava. La stella è grande, è lontana, tanto lontana da essere piccola, perfino più piccola di altre, assai più piccole di lei. Lo stupirsi non sarebbe qui affatto strano, se solo ne avessimo il tempo. Metà della stella, massa, posizione, tutto ciò basta, forse, per una tesi di dottorato e un piccolo rinfresco negli ambienti vicini al cielo. L'astronomo, sua moglie, parenti, colleghi, atmosfera rilassata, abito informale, si conversa soprattutto di temi locali, masticando noccioline. Una stella magnifica, ma non è un buon motivo per non brindare alle nostre signore, assai più vicine. Una stella senza conseguenze, ininfluente sul tempo, la moda, l'esito del match, il governo, le entrate e la crisi dei valori. Senza riflessi su propaganda, industria pesante e laccatura del tavolo delle trattative. In sovrappiù, per i giorni contati della vita. A che serve qui chiedersi sotto quante stelle nasce l'uomo e sotto quante, dopo un attimo, muore? Nuova! Mostrami almeno dove sta! Tra l'orlo della nuvoletta bigia sfilacciata e quel rametto più a sinistra di acacia. Ah! Eccola! Dico. Archeologia. E allora, pover'uomo, nel mio campo c'è stato un progresso. Sono trascorsi millenni da quando mi chiamasti archeologia. Non mi servono più dei di pietra e rovine con iscrizioni chiare. Mostrami di te il tuo non importa che, e io ti dirò chi eri. Di qualcosa il fondo e per qualcosa il coperchio. Un frammento di motore, il collo d'un cinescopio, un pezzetto di cavo, dita sparse. Può bastare anche meno, ancora meno. Con un metodo, che non potevi conoscere allora, so destare la memoria in innumerevoli elementi. Le tracce di sangue restano per sempre. La menzogna riluce. Si schiudono i codici segreti. Si palesano dubbi e intenzioni. Se solo lo vorrò, perché non puoi avere la certezza che lo vorrò davvero, guarderò in gola al tuo silenzio. Leggerò nella tua occhiaia quali erano i tuoi panorami. Ti ricorderò in ogni dettaglio che cosa ti aspettavi dalla vita, oltre la morte. Mostrami il tuo nulla che ti sei lasciato dietro e ne farò un bosco e un'autostrada, un aeroporto, bassezza, tenerezza e la casa perduta. Mostrami la tua poesiola e ti dirò perché non fu scritta né prima né dopo. Ah no, mi fraintendi. Riprenditi quel ridicolo foglio scribacchiato. A me serve soltanto il tuo strato di terra e l'odore di bruciato evaporato dalla notte dei tempi. Vista con granello di sabbia. Lo chiamiamo granello di sabbia, ma lui non chiama se stesso né granello né sabbia. Fa meno di un nome generale, individuale, permanente, temporaneo, scorretto o corretto. Del nostro sguardo e tocco non gli importa. Non si sente guardato e toccato. E che sia caduto sul davanzale è solo un'avventura nostra, non sua. Per lui è come cadere su una cosa qualunque, senza la certezza di essere già caduto o di cadere ancora. Dalla finestra c'è una bella vista sul lago, ma quella vista lei non si vede. Senza colore, senza forma, senza voce, senza odore, senza dolore è il suo stare in questo mondo. Senza fondo è lo stare al fondo del lago e senza sponde quello delle sponde. Né bagnato né asciutto quello della sua acqua, né al singolare né al plurale quello delle onde, che mormorano sorde al proprio mormorio intorno a pietre non piccole, non grandi. E tutto ciò sotto un cielo per natura senza cielo. Ove il sole tramonta senza tramontare affatto e si nasconde senza nascondersi dietro una nuvola ignara. Il vento da scompiglia senza altri motivi, se non quello di soffiare. Passa un secondo, un altro secondo, un terzo secondo, tre secondi, però solo nostri. Il tempo passò come un messo con una notizia urgente, ma è soltanto un paragone nostro. Inventato il personaggio, fittizia la fretta e la notizia inumana. vestiario. Ti togli, ci togliamo? Vi togliete? Cappotti, giacche, gilet, camicette di lana, cotone, mistolana, conne, calzoni, calze, biancheria, posando, appendendo, gettando sui schienali di sedie, ante di paraventi. Per adesso, dice il medico, nulla di serio, si rivesta. Riposi, faccia un viaggio. Prenda nel caso, dopo pranzo, la sera, ritorni fra tre, sei mesi, un anno. Vedi, e tu pensavi, e noi temevamo, e voi supponevate, e lui sospettava. E c'è ora di allacciare, con mani ancora tremanti, string, automatici, cerniere, fibbie, cinture, bottoni, cravate, colletti, e da maniche, borsette, tasche tirar fuori, sgualcita, puà, a righe, a scacchi, e a fiori, la sciarpa, riutilizzabile per protratta scadenza. Sulla morte, senza esagerare. Non si intende di scherzi, stelle, ponti, tessiture, miniere, lavoro dei campi, costruzione di navi e cottura di dolci. Quando conversiamo del domani, intromette la sua ultima parola a sproposito. Non sa fare neppure ciò che attiene al suo mestiere, né scavare una fossa, né mettere insieme una bara, né rassettare il disordine che lascia. Occupata a uccidere, lo fa in modo maldestro, senza metodo né abilità, come se ognuno di noi stesse imparando. Vada per i trionfi, ma quante disfatte, colpi a vuoto e tentativi ripetuti da capo. A volte ne manca la forza di far cadere una mosca in volo. Più di un bruco la batte in velocità. Tutti quei bulbi, baccelli, antenne, pinne, trachee, piumaggi nuziali e pelame invernale, testimoniano i ritardi del suo ingrato lavoro. La cattiva volontà non basta e perfino il nostro aiuto con guerre e rivoluzioni è, almeno finora, insufficiente. I cuori battono nelle uova, crescono gli scheletri dei neonati, dai semi spuntano le prime due foglioline e spesso anche grandi alberi all'orizzonte. Chi ne afferma l'onnipotenza è lui stesso la prova vivente che essa onnipotente non è. Non c'è vita che almeno per un attimo non sia stata immortale. La morte è sempre in ritardo di quell'attimo. In vano scuote la maniglia ad una porta invisibile. A nessuno può sottrarre il tempo raggiunto. La casa di un grande uomo. Hanno scritto nel marmo a lettere d'oro. Qui abitò, lavorò e morì un grande uomo. Questi viottoli gli accosparsi di ghiaia a lui. Questa panchina non toccare. L'ha scolpita lui. E, attenzione, tre gradini, entriamo dentro. Fece ancora in tempo a nascere nel momento giusto. Tutto quel che doveva passare passò in questa casa. Non in caseggiati, non in metrature immobiliate, ma vuote. Fra vicini sconosciuti, ai quindicesimi piani dove sarebbe arduo trascinare scolari in gita. In questa stanza meditava. In questa alcova dormiva. E qui riceveva gli ospiti. Ritratti, poltrona, scrivania, pipa, mappamondo, plauto, tappetino consumato, veranda a vetri. Da qui scambiava in chini col sarto il calzolaio che gli cucivano su misura. Non è come fotografie dentro le scatole. Biro seccate in un barattolo di plastica. Un vestito di serie in un armadio di serie. Finestre più vicine alle nuvole che alla gente. Felice. Infelice. Non di questo si tratta. Ancora si confidava nelle lettere, senza il pensiero che le avrebbero aperte. Teneva ancora un diario puntuale e sincero, senza paura ad una perquisizione. più di tutto lo inquietava il passaggio d'una cometa. La fine del mondo era solo nelle mani di Dio. Riuscì ancora a morire non in ospedale dietro chissà quale paravento bianco, con ancora accanto qualcuno che ricordò le parole del suo borbottio. Era come se gli fosse toccata una vita riutilizzabile. Mandava a rilegare i libri. Non cancellava dal tacquino i nomi dei morti. E gli alberi che piantava dietro la casa. Gli crescevano ancora come Juglansregia e Quercus Rubra e Ulmus e Larix e Fraxinus Excelsior. In piano giorno. In una pensione di montagna andrebbe. Nella sala da pranzo scenderebbe. I quattro abeti di ramo in ramo, senza scuoterne la neve fresca, dal tavolino accanto alla finestra, guarderebbe. La barbetta a pizzo, pelato, incanutito, con gli occhiali, i tratti del viso espessiti e affaticati, con una verruca sulla guancia e la fronte a pieghe, come se l'argilla avesse ricoperto un marmo angelico. E nemmeno lui saprebbe dire quando, perché in effetti, non di colpo, ma un po' alla volta, sale il prezzo per non essere morti prima, e anche lui pagherebbe tale prezzo. Dall'orecchio, scalfito appena da un proiettile, la testa infatti si era scostata giusto in tempo o ha avuto una fortuna sfacciata, direbbe. Aspettando che sia servita la pasta in brodo, leggerebbe l'ultimo numero del giornale, titoli di scatola, piccola pubblicità, o batterebbe le dita sulla tovaglia bianca e avrebbe già da tempo le mani consunte, con la pelle screpolata e le vene gonfie. Talvolta qualcuno dalla soglia griderebbe «Signor Batsansky, la vogliono al telefono!» e non ci sarebbe nulla di strano che sia lui che si alzi aggiustandosi il golf e si avvia alla porta senza fretta. A questa vista nessuno tacerebbe, né il gesto né il respiro tratterrebbe, perché il fatto è normale, e peccato peccato, come un fatto normale sarebbe trattato. La vita breve dei nostri antenati Non arrivavano in molti fino a trent'anni. La vecchiaia era un privilegio di alberi e pietre. L'infanzia durava quanto quella dei cuccioli di lupo. Bisognava sbrigarsi, fare in tempo a vivere prima che tramontasse il sole, prima che cadesse la neve. Le genitrici tredicenni, i cercatori quattrenni, dei nidi tra i giunchi, i capicaccia ventenni, un attimo prima non c'erano, che già non ci sono più. I capi dell'infinito si univano in fretta, le fatucchiere biascicavano esorcismi con ancora tutti i denti della giovinezza. Il figlio si faceva uomo sotto gli occhi del padre, il nipote cresceva sotto l'occhiaia del nonno. E del resto essi non contavano gli anni. Contavano reti, pentole, capanni, asce. Il tempo, così prodigo con una qualunque stella del cielo, tendeva loro una mano quasi vuota e la ritraeva in fretta come pentito. Ancora un passo, ancora due, lungo il fiume scintillante che dall'oscurità nasce e dall'oscurità scompare. Non c'era un attimo da perdere, domande da rinviare, illuminazioni tardive, se non le si erano avute per tempo. La saggezza non poteva aspettare i capelli bianchi, doveva vedere con chiarezza prima che fosse chiaro e udire ogni voce prima che li suonasse. Il bene e il male ne sapevano poco, ma tutto. Quando il male trionfa, il bene si cela. Quando il bene si mostra, il male si acquatta. Nessuno dei due si lascia vincere o allontanare da una distanza definitiva. Ecco il perché d'una gioia sempre tinta di terrore, d'una disperazione mai disgiunta da tacita speranza. La vita, per quanto lunga, sarà sempre breve, troppo breve per aggiungere qualcosa. La prima fotografia di Hitler. E chi è questo pupo in vestina? È Adolfino, il figlio dei signori Hitler. Diventerà forse un dottore in legge o un tenore dell'opera di Vienna? Di chi è questa manina? Di chi? E gli occhietti e il nasino? Di chi è il pancino pieno di latte? Ancora non si sa. D'un tipografo, d'un mercante? D'un prete? Dove andranno queste buffe gambette? Dove? Al giardinetto, a scuola, in ufficio, alle nozze, magari con la figlia del borgomastro. Bebè, angioletto, tesoruccio, piccolo raggio. Quando veniva al mondo, un anno fa, non mancavano segni nel cielo e sulla terra. Un sole primaverile, zerani alle finestre, musica d'organetto nel cortile. Un fausto presagio nella carta velina rosa. Prima del parto, un sogno profetico della madre. Se sogni un colombo, è una lieta novella. Se lo acchiappi, arriverà chi hai lungamente atteso. Toc, toc. Chi è? È il cuoricino di Adolfino. Cucciolotto, pannolino, bavaglino, sonaglio. Il bambino, rodando i dio e toccando ferro, è sano. Somiglia ai genitori, al gattino nel cesto, ai bambini di tutti gli altri album di famiglia. Beh, adesso non piangeremo mica. Il fotografo farà clic sotto la tela nera. Ateie Klinger, Grabenstrasse, Braunau. E Braunau è una cittadina piccola ma dignitosa, ditte solide, vicini da bene, profumo di torta e di sapone da bucato. Non si sentono cani ululare nei passi del destino. L'insegnante di storia allenta il colletto e sbadiglia sui quaderni. Scorcio di secolo. Doveva essere il migliore degli altri il nostro ventesimo secolo. Non farà più in tempo a dimostrarlo agli anni contati. Il passo malfermo, il fiato corto. Sono ormai successe troppe cose che non dovevano succedere e quel che doveva arrivare non è arrivato. Ci si doveva avviare verso la primavera e la felicità, tra l'altro. La paura doveva abbandonare i monti e le valli. La verità doveva raggiungere la meta prima della menzogna. Alcune sciagure non dovevano più accadere. Ad esempio la guerra e la fame e così via. Doveva essere rispettata l'inermità degli inermi. La fiducia e via dicendo. Chi voleva gioire del mondo si trova di fronte a una impresa impossibile. La stupidità non è ridicola. La saggezza non è allegra. La speranza non è più quella giovane ragazza eccetera purtroppo. Dio doveva finalmente credere nell'uomo buono e forte ma il buono e il forte restano due esseri distinti. Come vivere? Mi ha scritto qualcuno a cui io intendevo fare la stessa domanda. Da capo e allo stesso modo di sempre come si è visto sopra. Non ci sono domande più pressanti delle domande ingenue. Figli dell'epoca. Siamo figli dell'epoca. L'epoca è politica. Tutte le tue nostre vostre faccende diurne notturne sono faccende politiche. Che ti piaccia o no? I tuoi geni hanno un passato politico. La tua pelle una sfumatura politica. I tuoi occhi un aspetto politico. Ciò di cui parli ha una risonanza. Ciò di cui taci ha una valenza. In un modo o nell'altro politica. Perfino per i campi, per i boschi fai passi politici su uno sfondo politico. Anche le poesie apolitiche sono politiche. E in alto brilla la luna. Cosa non più lunare. Essere o non essere. Questo è il problema. Quale problema? Rispondi sul tema. Problema politico. Non devi neppure essere una creatura umana per acquistare un significato politico. Basta che tu sia petrolio, mangine, arricchito o materiale riciclabile. O anche il tavolo delle trattative, sulla cui forma si è disputato per mesi. Se negoziare sulla vita e la morte intorno a un tavolo rotondo o quadrato. Intanto la gente moriva. Gli animali crepavano, le case bruciavano e i campi inselvatichivano, come in epoche remote e meno politiche. Torture. Nulla è cambiato. Il corpo prova dolore. Deve mangiare, respirare e dormire. Ha la pelle sottile. E subito sotto, sangue. Ha una buona scorta di denti e di unghie. Le ossa fragili. Le giunture stirabili. Nelle torture di tutto ciò si tiene conto. Nulla è cambiato. Il corpo trema come tremava prima e dopo la fondazione di Roma. Nel ventesimo secolo prima e dopo Cristo. Le torture c'erano. E ci sono. Solo la terra è più piccola. E qualunque cosa accada è come dietro la porta. Nulla è cambiato. C'è soltanto più gente. Alle vecchie colpe se ne sono aggiunte di nuove. reali, fittizie, temporanee e inesistenti. Ma il grido con cui il corpo ne risponde era e sarà un grido di innocenza, secondo un registro e una scala eterni. Nulla è cambiato. Tranne forse i modi, le cerimonie, le danze. Il gesto delle mani che proteggono il capo è rimasto però lo stesso. Il corpo si torce, si dimena, si divincola. Fiaccato, cade, raggomitola le ginocchia, illividisce, si gonfia, sbava e sanguina. Nulla è cambiato. Tranne il corso dei fiumi, la linea dei boschi, del litorale, i deserti e i ghiacciai. Tra questi paesaggi l'animula vaga sparisce, ritorna, si avvicina, si allontana. A se stessa è stranea, inafferrabile. Ora certa, ora incerta della propria esistenza. Mentre il corpo c'è e c'è e c'è e non trova riparo. Intrighi coi morti. In quali circostanze sogni i morti? Pensi spesso a loro prima di addormentarti? Chi è il primo ad apparire? È sempre lo stesso? Nome, cognome, cimitero, data di morte? A che fanno riferimento? A una vecchia amicizia, alla parentela, alla patria? Dicono da dove vengono? E chi c'è dietro di loro? E chi oltre a te li sogna? I loro volti somigliano alle loro fotografie? O sono invecchiati con gli anni? Freschi e maciati? Gli uccisi sono riusciti a sanare le ferite? Ricordano sempre chi li ha uccisi? Cosa hanno nelle mani? Descrivi quegli oggetti? Marci, arrugginiti, carbonizzati, tarlati? E nei loro occhi? Una minaccia? Una richiesta? Quale? Chiacchierate fra voi solo del tempo? Degli uccellini? Dei fiori? Delle farfalle? Da parte loro nessuna domanda imbarazzante? E tu allora che cosa gli rispondi invece di tacere per prudenza? O di cambiare evasivamente il tema del sogno? O di svegliarti al momento giusto? Scrivere un curriculum. Che cosa è necessario? È necessario scrivere una domanda e alla domanda legare un curriculum. A prescindere da quanto si è vissuto il curriculum dovrebbe essere breve. È d'obbligo concisione e selezione dei fatti. Cambiare paesaggi in indirizzi e malcerti ricordi in date fisse. Di tutti gli amori basta quello coniugale e dei bambini solo quelli nati. Conta di più chi ti conosce di chi conosci tu. I viaggi solo se all'estero. L'appartenenza a un che, ma senza perché, onoreficenze senza motivazione. Scrivi come se non parlassi mai con te stesso e ti evitassi. Sorvola sui cani, gatti e uccelli, cianfrusaglie del passato, amici e sogni. Meglio il prezzo che il valore e il titolo che il contenuto. Meglio il numero di scarpa che non dove va colui per cui ti scambiano. Aggiungi una foto con l'orecchio in vista. È la sua forma che conta, non ciò che sente. Cosa si sente? Il fragore delle macchine che tritano la carta. Funerale. Così all'improvviso. Chi poteva pensarlo? Lo stress, le sigarette. Io glielo dicevo. Così, così, grazie. Scarta quei fiori. Anche per il fratello fu il cuore. Deve essere di famiglia. Con questa barba non l'avrai mai riconosciuta. Sarei voluto. Era un impiccione. Doveva parlare quello nuovo, ma non lo vedo. Kasek è a Varsavia. Tadek è all'estero. Tu sola hai avuto la buona idea di prendere l'ombrello. Era il più in gamba di tutti. E a che gli è servito? È una stanza di passaggio. Basca non la vorrà. Certo, aveva ragione, ma non è un buon motivo. Con la verniciatura delle portiere, indovina quanto? Due tuorli, un cucchiaino di zucchero. Non erano affari suoi. Che bisogno aveva? Soltanto azzurre e solo numeri piccoli. Cinque volte. Mai una risposta. D'accordo, avrei potuto, ma anche tu potevi. Meno male che almeno lei aveva quel piccolo impiego. Ma non so, probabilmente parenti. Di prete, è un vero bel mondo. Non ero mai stata in quella parte del cimitero. Ho sognato la settimana scorsa un presentimento. Non male la figuola. Si aspetta tutti la stessa fine. Le mie condoglianze alla vedova. Devo fare in tempo a... Però in latino era più solenne. È la vita. Arrivederla, signora. E se ci bevessimo una birra da qualche parte? Telefonami. Ne parleremo. Con il quattro o con il dodici. Io vado per di là. Noi per di qua. Un parere in merito alla pornografia. Non c'è dissolutezza peggiore del pensare. Questa licenza si moltiplica come gramigna su un'aiuola per le margheritine. Nulla è sacro per quelli che pensano. Chiamare audacemente le cose per nome, analisi spinte, sintesi impudiche, cazza selvaggia sregolata al fatto nudo, palpeggiamento lascivo di temi scabrosi, fregola di opinioni. Ecco quel che gli piace. In pieno giorno, a notte fonda, si uniscono in coppie, triangoli e cerchi. Poco importa il sesso e l'età dei partner. I loro occhi brillano. Gli ardono le guance. L'amico travia l'amico. Figlie snaturate corrompono il padre. Il fratello fa il ruffiano per la sorella minore. Preferiscono i frutti dell'albero vietato della conoscenza, alle natiche rose e dei rotocalchi. A tutta questa pornografia, in definitiva ingenua. I libri che li divertono non sono illustrati. Il loro unico svago? Certe frasi, segnate con l'unghia o la matita. È spaventoso in quali posizioni e con quale sfrenata semplicità l'intelletto riesca a fecondare l'intelletto. Posizioni sconosciute perfino al Kamasutra. Durante questi convegni solo il te va in calore. La gente siede sulle sedie, muove le labbra. Ognuno accavalla le gambe per conto suo. Un piede tocca così il pavimento, l'altro ciondola libero nell'aria. Solo ogni tanto qualcuno si alza, va alla finestra e attraverso una fessura delle tende scruta furtivo in strada. Un racconto iniziato. Alla nascita di un bimbo il mondo non è mai pronto. Le nostre navi ancora non sono tornate dalla Vinglandia. Ci attende ancora il valico del Gottardo. Dobbiamo eludere le guardie nel deserto di Thor, aprirci la strada per le fogne fino al centro di Varsavia, trovare il modo di arrivare al re Herald Cod e aspettare che cada il ministro Fouché. Solo ad Acapulco ricominceremo tutto da capo. Si è esaurita la nostra scorta di bende, fiammiferi, argomenti, amigdale e acqua. Non abbiamo camion né il sostegno dei Ming. Con questo ronzino non corromperemo lo sceriffo. Niente nuove su quelli fatti schiavi dai turchi. Ci manca una caverna più calda per i grandi freddi e qualcuno che conosca la lingua a rari. Non sappiamo di chi fidarci a Ninive, quali condizioni porrà il principe cardinale, quali nomi siano ancora nei cassetti di Beria. Dicono che Carlo Martello attaccherà all'alba. In questa situazione rabboniamo Cheope, presentiamoci spontaneamente, cambiamo religione, fingiamo di essere amici del doge e di non avere a che fare con la tribù Kvabe. Si approssima il tempo di accendere i fuochi. Telegrafiamo alla nonna, che venga dal paese. Sciogliamo i nodi sulle corregge della jurta, purché il parto sia lieve e il bimbo cresca sano. Possa essere talvolta felice e scavalcare gli abissi. che abbia un cuore capace di resistere e l'intelletto vigile e lungimirante, ma non così lungimirante da vedere il futuro. Rispermiategli questo dono, o potenze celesti. nell'arca. Comincia a cadere una pioggia incessante. Nell'arca. E dove mai potreste andare voi, poesie, per una sola voce? Slanci privati, talenti non indispensabili, curiosità superflua. Afflizioni e paure di modesta portata. E tu? Voglia di guardare le cose da sei lati. I fiumi si ingrossano e straripano. Nell'arca. Voi chiaroscuri e semitoni. Voi capricci, ornamenti e dettagli. Stupide eccezioni, segni dimenticati. Innumerevoli varianti del grigio. Il gioco per il gioco. E tu? Lacrima del riso. A perdita d'occhio? Acqua. E l'orizzonte nella nebbia. Nell'arca. Piani per il lontano futuro. Gioia per le differenze. Ammirazione per i migliori. Scelta non limitata a uno dei due. Scrupoli antiquati. Tempo per riflettere. E tu? Fede che tutto ciò un giorno potrà ancora servire. Per riguardo ai bambini che continuiamo a essere, le favole sono a lieto fine. Anche qui non c'è altro finale che si addica. Smetterà di piovere. Caleranno le onde. Nel cielo rischiarato si apriranno le nuvole. E saranno di nuovo come si addiceva alle nuvole sugli uomini. elevate e leggere nel loro somigliare a isole felici. Pecorelle, cavolfiori e pannolini che si asciugano al sole. Possibilità. Preferisco il cinema. Preferisco i gatti. Preferisco le querce sul fiume Varta. preferisco Dickens a Dostoyevsky. Preferisco me, che vuole bene alla gente, a me, che ama l'umanità. Preferisco avere sotto mano ago e filo. Preferisco il color verde. Preferisco non affermare che l'intelletto ha la colpa di tutto. Preferisco le eccezioni. Preferisco uscire prima. Preferisco parlare con i medici d'altro. Preferisco le vecchie illustrazioni a tratteggio. Preferisco il ridicolo di scrivere poesie al ridicolo di non scriverne. Preferisco in amore gli alliversari non tondi, da festeggiare ogni giorno. Preferisco i moralisti, che non mi promettono nulla. Preferisco una bontà veduta a una credulona. Preferisco la terra in borghese. Preferisco i paesi conquistati a quelli conquistatori. preferisco avere delle riserve. Preferisco l'inferno del caos all'inferno dell'ordine. Preferisco le favole dei Grimm alle prime pagine. Preferisco foglie senza fiori a fiori senza foglie. Preferisco i cani con la coda non tagliata. Preferisco gli occhi chiari, perché li ho scuri. Preferisco i cassetti. Preferisco molte cose che qui non ho menzionato, a molte pure qui non menzionate. Preferisco gli zeri alla rinfusa, che non allineati in una cifra. Preferisco il tempo degli insetti a quello siderale. Preferisco toccare ferro. Preferisco non chiedere per quanto ancora e quando. Preferisco prendere in considerazione perfino la possibilità che l'essere abbia una sua ragione. La fiera dei miracoli. Un miracolo comune. L'accadere di molti miracoli comuni. Un miracolo normale. L'abbaiare di cani invisibili nel silenzio della notte. Un miracolo fra tanti. Una piccola nuvola svolazzante. E riesce a nascondere una grande, pesante luna. Più miracoli in uno. Un lontano riflesso sull'acqua e che sia girato da destra a sinistra e che cresca con la chioma più in giù e non raggiunga affatto il fondo, benché l'acqua sia poco profonda. Un miracolo all'ordine del giorno. Venti abbastanza deboli e moderati, impetuosi durante le tempeste. Un miracolo alla buona. Le mucche sono mucche. Un altro non peggiore. Proprio questo frutteto. Proprio da questo nocciolo. Un miracolo senza frac nero e cilindro. Bianchi colombi che si levano in volo. Un miracolo. E come chiamarlo altrimenti? Oggi il sole è sorto alle 3 e 14 e tramonterà alle 20 e 01. Un miracolo che non stupisce quanto dovrebbe. La mano ha in verità meno di 6 dita, però più di 4. Un miracolo. Basta guardarsi intorno. Il mondo onnipresente. Un miracolo supplementare, come ogni cosa. L'inimmaginabile è immaginabile. Gente sul ponte. Strano pianeta. È strana la gente che lo abita. Sottostanno al tempo, ma non vogliono accettarlo. Hanno modi per esprimere la loro protesta. Fanno quadretti. Per esempio questo. Ha un primo sguardo nulla di particolare. Si vede uno specchio d'acqua. Si vede una delle sue sponde. Si vede una barchetta che s'affatica. Si vede un ponte sull'acqua. E gente sul ponte. La gente affretta visibilmente il passo perché da una nuvola scura la pioggia ha appena cominciato a scrosciare. Il fatto è che poi non accade nulla. La nuvola non muta colore né forma. La pioggia né aumenta né smette. La barchetta navica immobile. La gente sul ponte corre proprio là, dove era un attimo prima. È difficile esprimersi qui, da un commento. Il quadretto non è affatto innocente. Qui il tempo è stato fermato. Non si è più tenuto conto delle sue leggi. Lo si è privato dell'influsso sul corso degli eventi. Lo si è ignorato e offeso. A causa d'un ribelle, un tale Hiroshige Utagawa, un essere che del resto dà un pezzo e come è giusto è scomparso, il tempo è incempato. È caduto. Forse non è che è una burla innocua, uno scherzo della portata di appena qualche galassia. Tuttavia, ad ogni buon conto, aggiungiamo quanto segue. Qui è bon ton apprezzare molto questo quadretto, ammirarlo e commuoversene da generazioni. Per alcuni non basta neanche questo. Sentono perfino il fruscio della pioggia. Sentono il freddo delle gocce sul collo e sul dorso. Guardano il ponte e la gente come se la vedessero se stessi, in quella stessa corsa che non finisce mai, per una strada senza fine, sempre da percorrere. E credono, nella loro arroganza, che sia davvero così.